Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco e penso solo sto in mutà. Penso a delusioni e grandi imprese, penso a unità e desi. Ma la ripresa è eccezionale, dammi rete, è sempre essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una putza. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stile. Aveva dei problemi anche seri e non ragionava male. Non so se hai presente una putza, ottimista di sinistra. E non abbiamo fatto niente e son rimasto solo solo come un deficiente. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice solo di Berlino. A Berlino ci sono stato con Bonetti, ero un po' triste e molto grande. Però mi sono rotto, torno a casa, mi rimetterò in montante. Prima di salire le scale mi sono fermato a guardare una stella. E sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la cappella. Ho chiuso un po' con gli occhi e con dolcezza. E' partita la mia mano. E' partita la mia mano. Grazie a tutti Grazie a tutti